Bere alcolici potrebbe migliorare la vostra capacità di esprimervi in una lingua straniera? Mentre facevo qualche ricerca su questa notizia rimbalzata sui giornali online qualche mese fa, mi aspettavo di risalire alla fonte originale e scoprire che il classico titolone La scienza dice che non fosse altro che il solito misero clickbait e invece lo studio originale dicesse tutt'altro, come succede costantemente quando leggiamo notizie di questo tipo online. In realtà però quello che ho scoperto è che l'articolo originale degli autori me li sono scritti per non sbagliare Renner, Kersbergen e Field pubblicato su un giornale di psicofarmacologia che sembra anche piuttosto serio in realtà dice esattamente questo quindi non siamo davanti a un caso di mala interpretazione, di clickbait ma cerchiamo di capire che cos'è questo esperimento, questo studio che è stato pubblicato e perché l'alcol migliorerebbe la vostra capacità di esprimervi. Allora quello che è stato fatto è stato questo sono stati presi 50 studenti dell'olandese quindi persone che hanno imparato di recente o una nuova lingua straniera, in questo caso l'olandese e sono stati posti di fronte a un test chiaramente a doppio cieco quindi sia l'esaminatore sia loro non sapevano in quale gruppo del test appartenevano ad alcuni di questi, a metà di questi sono stati somministrati nei drink alcolici a basso contenuto alcolico quindi non sono stati fatti sbronzare ma un po' di alcol e degli altri sono stati come dire, gli è stato dato un drink analcolico ma con lo stesso gusto quindi praticamente indistinguibile, un gruppo di controllo potremmo dire così e sono stati fatte due cose intanto sono stati messi di fronte a un esaminatore che doveva avere una conversazione con loro in secondo luogo questa conversazione è stata registrata ed è stata mostrata a una serie di parlanti nativi quindi native speakers dell'olandese che dovevano decidere quali soggetti parlavano meglio e quali invece parlavano peggio che cosa viene fuori? viene fuori che una grossa percentuale di quelli che avevano bevuto alcolici risultano sensibilmente migliori nella pronuncia di quelli invece che non hanno bevuto alcolici e quindi che si sono bevuti il drink analcolico non sapendolo ora, quindi che cosa suggerisce l'articolo? si conclude, le note conclusive concludono che forse una somministrazione acuta di alcolici non in grandi dosi ma un pochettino insomma possa migliorare in particolare la pronuncia delle lingue straniere ora, la cosa interessante perché io credo che questo studio tutto sommato non sia un granché è che ci sono soltanto 50 studenti che prendono parte a questo studio e non si sa quali variabili possano essere coinvolte se semplicemente l'alcol magari abbassi leggermente le inibizioni quindi magari queste persone si sentano più sicure e si buttino di più magari si fanno meno paranoie quindi parlano leggermente meglio non sappiamo esattamente non sono andato a vedere esattamente i valori statistici per la significatività di quello che è scritto perché dovevo pagare l'articolo e non mi sembrava il caso ma in ogni caso questo studio è interessante quindi aspettiamo delle ulteriori conferme cerchiamo di capire se davvero l'alcol possa migliorare la pronuncia nel dubbio una birretta ci sta